Musica Bello a tutti ragazzi qui è Giovedere del Sante e ben ritornati nel mio canale Oggi siamo qui con il quinto vlog Prima di iniziare come sempre voglio invitarvi a lasciare un bel like per supportare al massimo questa serie Cerchiamo di arrivare a 300 like anche per questo vlog Oggi ragazzi parleremo sostanzialmente di tre cose La prima cosa l'avete sicuramente vista già dal titolo Infatti credo che questo vlog lo chiamerò dove è finito Fallout Oppure perché non continua Fallout un titolo del genere Allora io devo dire che secondo me ho sbagliato a iniziare il let's play di Fallout sul mio canale Perché per fare dei let's play bisogna essere costanti L'ho detto anche nel video di Life is Strange mi sembra, non mi ricordo, comunque nell'ultimo vlog E io purtroppo per colpa della scuola non lo sono Io gioco veramente poco alla Playstation solo quando devo registrare perché non ho tempo per giocare per conto mio E ho notato che per fare un video di Fallout ci vuole veramente troppo troppo tempo Perché se tu registri un'ora di Fallout 20 minuti sono dialoghi 20 minuti giri per la mappa per fare le missioni E gli altri 20 minuti sono gameplay Quindi facendo i tagli alla fine viene fuori veramente poco Quindi per fare un video fatto bene devo registrare almeno un'oretta, un'oretta e mezzo Infatti l'ultimo episodio che vedete di Fallout Io ragazzi per fare quell'episodio che non mi ricordo neanche quanto è durato Tipo 20 minuti Io ho registrato un'ora e mezza O un'ora anche di più E alla fine tagliando tagliando siamo arrivati a 20 minuti di video E alla fine due giorni dopo quel video c'era già gente che mi chiedeva giustamente il proseguimento E quindi a questo punto a me servirebbe un'altra ora e mezza per registrare un altro episodio Io quella ora e mezza non ce l'ho Quelle poche volte che ho del tempo per poter giocare alla Playstation e per poter registrare Preferisco rilassarmi e fare una bella partita su FIFA Questa è la verità Io infatti ragazzi su Fallout non ci sto giocando più E questa cosa è una cosa che mi dispiace perché io Fallout non l'ho ancora finito E lo finirò prima o poi perché appena finirò la scuola Oppure appena mi prenderò un po' di pausa Non lo so appena avrò una settimana libera per rilassarmi al di fuori della scuola Diciamo senza pensare alla scuola Io sicuramente mi chiuderò su Fallout Perché tutte quante le persone che ci hanno giocato hanno detto che è stato un gioco fantastico Io purtroppo non lo so perché ho fatto veramente pochissimo Magari può darsi che più avanti porterò altri video Però su Fallout naturalmente Però il Let's Play sicuramente non lo continuerò Questo ragazzi è un errore che io ho fatto spesso sul mio canale L'ho fatto con Batman e l'ho fatto ancora una volta con Fallout Mi riprometto di finire un Let's Play ma alla fine non ce la faccio E qui ci colleghiamo al secondo punto di questo vlog Cioè Life is Rage Ho fatto nell'ultimo episodio il sondaggio e purtroppo devo dire hanno vinto i no Per poco perché mi sembra 53% no e 47% sì mi sembra Comunque vedete qui le statistiche aggiornate E quindi non inizierò il Let's Play E anche perché ci stavo pensando perché ragazzi a me mi piacerebbe fare un Let's Play sul canale Ve lo dico sinceramente a me un Let's Play mi piacerebbe veramente tantissimo fare Però mi piacerebbe fare un Let's Play senza tagli Ovvero che se io registro un'ora e mezza Viene caricato un'ora e mezza Naturalmente divise gli episodi E Life is Rage era il gioco giusto Perché alla fine registrare un'ora e mezza di Life is Rage significa fare 3 episodi Insomma avete capito ragazzi Il mio problema è il tempo a disposizione che io non ho Comunque la terza e ultima cosa di questo vlog E spero di caricarlo domenica sera Non lo so spero di riuscirci Il telefono che suona grande Comunque la terza e ultima cosa che voglio dirvi in questo vlog E che vi aspetterà veramente una settimana molto bella sul mio canale Perché ci saranno due episodi che secondo me andranno molto molto bene Anzi tre episodi che andranno molto bene Innanzitutto vi spoilerò qualcosa Però naturalmente se non volete sapere che video usciranno in questi giorni Che vedete il video Però comunque lo vorrei dire perché preparatevi Perché arriverà un episodio epico della carriera portiere Assolutamente epico Poi arriverà un altro episodio della carriera giocatore Penso che uscirà proprio domani Sempre se questo video lo caricherò di lunedì sera Di domenica sera anzi E uscirà appunto un nuovo episodio della carriera giocatore Che è andato veramente molto molto bene Vedrete quello che succederà E soprattutto verso fine settimana prossima E uscirà l'episodio della carriera giocatore In cui cambieremo squadra Però vi spoilerò una cosa incredibile Sto pensando Anzi no non sto pensando Ci sto iniziando già a lavorare un po' Al best moment della carriera giocatore Visto che vi è piaciuto veramente tanto Il best moment della carriera portiere Che ho fatto verso Natale Che ha raggiunto anche i 1200 like Qualcosa di incredibile Stavo pensando di fare anche un nuovo video Diciamo un nuovo best moment Sulla carriera giocatore Naturalmente non so se questa idea vi piacerà Oppure no Io comunque ci sto già lavorando Quindi se anche voi qui sotto nei commenti Mi dite no no non farlo Non farlo non farlo Io lo farò lo stesso Perché sono quasi a metà diciamo E quindi alla fine vale la pena continuare Voglio vedere quindi se vi piace Anche questo best moment Perché se vi piace È una cosa che potrei fare anche Nei successivi anni Cioè ogni volta che cambieremo squadra E che faremo un anno Sia nella carriera giocatore Sia nella carriera portiere Sia in divento un mito Sto dicendo altre serie così Potrei fare un best moment Visto che sono molto visti E molto supportati Almeno così è stato l'ultimo Sulla carriera portiere Quindi per questo vlog è tutto Non so quanto sia durato Spero che siete riusciti ad arrivare Alla fine del video Se siete riusciti ad arrivare Alla fine del video Scrivete l'hashtag qui sotto Nei commenti Ho finito il video Così io capisco quanti di voi Veramente guardano tutti il video Hashtag ho finito il video Quindi per questo è tutto ragazzi Noi ci vediamo con un prossimo video Belli Noi ci vediamo con un prossimo video